Ci sono sete uomini che hanno scritto pagine a punti di una vita dal valore inestimabile Insostituibili perché hanno denunciato il più corrotto dei sistemi, troppo spesso ignorato Uomini o angeli mandati sulla terra per combattere una guerra Di faide di famiglie sparse come tante ville sull'isola di sangue che fra tante meraviglie Fra limoni e fra conchiglie massacra figli e figlie di una generazione Costretta a non guardare ma a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace Ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno Con dedizione contro l'istituzione organizzata posta, posta posta, posta posto Pensa prima di sparare, pensa prima di dire, di giudicare, prova a pensare Pensa e puoi decidere tu Resta un attimo sentato, un attimo di più Brava, 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 brava Con la testa fra le mani Buonasera, grazie mille, mi chiamo Anna Castaldi e ho 17 anni 17? Wow! Anna! E vengo da Genova, ma abito ad Olbia, in Sardegna Grazie mille, 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 gra